e se iniziassimo con c'era una volta quante storie avete sentito cominciare così facciamo qualcos'altro ah ecco 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 come si inizia un film no lasciamo stare salvi una cosa già vista non trovate no 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 il libro no si è già visto il libro delle favole che si aprono chiudiamo il libro non se ne parla facciamo così il libro non si è già visto il libro non si è già visto il libro non si è già visto a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.